Si è conclusa, dopo due anni, la complessa operazione Vertical Bio, portata avanti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesero e dagli ispettori dell'Ispettorato Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica e del Tribunale di Pesero, hanno portato al rinvio a giudizio di 33 persone, fra cui un Ravennate. Sono due le associazioni per delinquere disgregate dagli investigatori, composte da imprenditori italiani operanti nel settore dell'importazione e vendita di prodotti biologici, con sede a Pesero, Campobasso, Piacenza e Verona, responsabili a vario livello di due organismi di certificazione con sede a Fano e Sassari. I due sodalisti criminali erano legati dalla comune appartenenza di alcuni soggetti che operavano nell'ambito dei due organismi di certificazione e dal metodo di frodo utilizzato che consisteva nella creazione di una filiera unica di produzione, importazione e vendita dei prodotti agroalimentari, gestite dai sodali dell'associazione, alla quale veniva affiancata una rete di controlli e certificazioni rilasciate dagli organismi, i quali attestavano falsamente la natura biologica dei prodotti. Il sistema di frodo consolidato nel tempo consisteva in una prima fase nella quale veniva operata la produzione di granaglie in paesi terzi come Moldavia, Ucraina e Kazakistan, che venivano qualificati come biologiche dagli organismi di certificazione locali, ma controllati dai soggetti italiani strettamente collegati e cointeressati agli imprenditori titolari coinvolti nella frode. Successivamente le granaglie venivano importate in Italia, talvolta anche con l'interposizione di una società maltese che provvedeva a sdoganare la merce e introdurla all'interno dell'Unione Europea, eludendo in tal modo i rigidi controlli previsti nel territorio italiano. La merce, veicolata dalla società maltese, era rivenduta sul territorio italiano e dell'Unione Europea senza che fosse ulteriormente controllata. Il sistema fraudulento ha consentito alle aziende coinvolte di importare dal 2007 al 2013 un quantitativo di granagli di circa 350.000 tonnellate, costituiti in particolare da mais, soia, grano, corza, semi di girasole, con il conseguimento di un fatturato stimato di circa 126 milioni. L'attività operativa ha permesso attraverso la mappatura dei prodotti e la rilevazione delle relative vendite di calcolare il provento illecito derivante dall'attività fraudolenta per un ammontare complessivo di circa 32 milioni di euro. Inoltre, i prodotti falsamente certificati come biologico sequestrati nelle varie fasi d'indagine corrispondono ad un totale di 2412 tonnellate. Delle 33 persone rinviate a giudizio, 11 quelle destinate agli arresti domiciliari, mentre a sé è stato vietato il diritto di esercitare attività d'impresa.